Ciao amiche e amici, dalla vostra voglio citare perché giustamente io, dato che io sto dicendo i puntini puntini, voi suggerite, ecco, e una di voi, Sabina Volpato, sotto al video dove vi faccio vedere la mia collezione di guantini, dice inguantata con un trucco insuperabile, e Lucia 1969 dice inguantata, quindi insomma lei i stanno spopolando e me le suggerite voi, mi sembra carina questa cosa. Allora, oggi sono qui per farvi vedere, è arrivato fresco fresco un ordine che ho fatto su YesStyle, voi sapete che io sono una YesStyle influencer, nel senso che avevo fatto domanda, mi era arrivata mi sembra una make, dicevo vuoi diventare una YesStyle influencer, mi sembra, insomma mi ricordo, ah sulle labbra non ho niente, manco brù di cacao. E praticamente il trucco è quello di stamattina che però devo dire regge benissimo, guardatelo sulla mia pagina Instagram, questo è il make up che ho pubblicato oggi che ne abbiamo 31 di marzo. Dico bene? Io ho sempre sto problema di non sapere, sì, giovedì 31, molto benissimo, e quindi queste sono le vostre i, che adesso non ci servono più, e dicevo ho fatto, ho fatto domanda, vediamo il sodo, eccolo qua, ho fatto domanda e loro mi hanno accettato, mi hanno accettato sia per Instagram che per, ops, la cosa qui si sposta, sia per Instagram che per YouTube, però poi alla fine ho deciso di iscrivermi, diciamo, come contenuti YouTube, perché, semplicemente perché loro consigliano di iscriverti con il social dove hai più follower. Allora è arrivato questo pacchettino, in realtà io ne ho fatto, ho fatto un pacchetto al 22 di febbraio, figuratevi un po' un mese e mezzo fa, che però non mi è ancora arrivato perché c'erano un paio di, ho cercato, ho fatto il tracking, un paio di prodotti che non, praticamente, li devono riassortire. E mi arriverà però, che l'ho ordinato, un blush, questo qui, Too Cool For School, non guardate i prezzi che io li ho presi che erano tutti scontati, e questo non l'ho pagato a 19 ma c'erano i saldi, è un bellissimo rosa, e poi oltre a questo, non mi ricordo più, forse se, non mi ricordo quali sono i, forse c'erano questi, questa palettina a ombretti, e poi questo invece, questo qui, questo rossetto, che però, questo mi sembra che ci vuole un po' perché arrivi, quindi in pratica l'ho fatto togliere dall'ordine, e poi loro mi mandano questo prodotto che è sponsorizzato e che sono, è una cura per le imperfezioni, sono dei patch per brufoletti e robe varie, di cui a qualsiasi età si soffre, si può soffrire. Io per esempio, a me capita soprattutto con la mascherina, mi è capitato, ma comunque mi capita. Questo è quello che aspetto, quello che è arrivato invece di questi tre prodottini che vi faccio subito vedere. Allora, guardo qui, sono due palette occhi di Romand, questo è un brand coreano, in vendita su Y-Style, sempre col mio, sempre col mio codice sconto tutto grande, tutto minuscolo, gatta, con 1, 2, 3 in cifre, e avevo preso una palettina piccolina, so se qualcuno se la ricorda, dove l'ho messa, sì che ce l'ho, sì che ce l'ho, e adesso chissà dove l'ho messa, comunque vi giuro che ce l'ho, dopo vabbè vediamo, ce l'ho, di colori neutri. Questa invece è una palettina di cui parlano molti e che è, ecco, Glitter, allora questa è Glitter Garden, ed è una palettina, questo è il pacco esterno, vedete, si è Romand, scritto con la EDI e company, non penso che poi loro scrivono Romand, in realtà, comunque penso si pronuncia Romand, pacco esterno, tutto cartonato, arrivano molto protetti i prodotti, eh, dis, e adesso viene fuori tutti gli ombretti spaccati, vabbè, speriamo di no dai. Allora, ci sono dei super glitter pazzeschi, e c'è una nostra youtuber, instagrammer, che dopo vi metto il link al suo canale YouTube, che ne ha parlato tanto e mi ha, a dir poco, conquistato. Guardate che, che glitterozzi folli. Lei ne parla molto bene, dice appunto che, no, non hanno alcun odore, meno male, sono veramente tutti i colori, con una prevalenza di rosati, belli, colori direi prevalentemente freddi, molto bellina, e questa è una paletta, lei ne ha parlato e mi ha conquistata, però, già che c'ero, ho visto che c'era quest'altra, sempre della linea Better Garden, o The Secret Garden, fate voi, i stessi, e questa è la Dusty Fog, quindi quella lì di prima era la Light and Glitter Garden 00, e questa invece è la Dusty Fog Garden 04, ci sono diversi colori, eh? Ed ecco qua, dovrei cercare di contenere questo video nei dieci minuti, così posso spedirlo anche agli amici di A-Style. Guardate che meraviglia! No. Voi ditemi se questi colori freddi opachi non sono proprio nel mio mood, come dicono quelli bravi, ma stupendi. Non swatcho perché, come sapete, con una palette nuova non oso. E mi dicono essere anche molto performanti. Terza cosa che ho preso, in tutto mi sembra di avere speso una trentina di euro, perché erano tutti super scontati, questo è di Isn3, che mi sembra che è un brand coreano, mi pare che adesso lo vendano anche da Sephora, non vorrei dire una stupidata, però ditemi che è così, vediamo se in diretta riusciamo a tagliarci un dito. Ah, l'avevo già tagliato, ma parla, va brava! Ed è una crema solare, in gel, molto leggera, è scritto tutto in coreano, però In Isn3, Yaluronic Acid Acid Watery Sun Gel, 50PU, High Types of Yaluronic Acid, quindi con otto tipi di acido yaluronico, è basato su, è acquoso, quindi dà una forte e profonda idratazione e quindi è molto adatta, insomma, per le pelli, anche per le pelli secche, insomma, mi sembra di capire così. È un brand coreano, vediamo com'è l'erogatore, ottimo, quindi è super igienico, questo, quando finirò un altro prodottino solare per il viso, userò questo qua, perché la consistenza in gel mi fa pensare che con sotto il trucco vada benissimo. Questo è un prodotto che è venduto tuttora col 30% e consigliato per gli influencer e quindi per me e poi vi ho detto che ho preso queste due palettine che così sulla carta mi sembrano stupende, poi questa l'ho vista nelle manine meravigliose di questa Instagrammer di cui non vi anticipo il nome, vi lascio la sorpresina nell'infobox e questo invece l'ho preso io perché questi sono un po' i miei colori. Magari si può vivacizzare poi un trucco tutto opaco con un glitterozzo. Consigliano di passarli magari un po' di volte e io ci metto la colla per glitter per non avere sorprese. E quindi questi un po' sono i tre prodottini che ho preso questa volta. Poi aspetto appunto l'ordine che ho fatto perché questo qua pensate l'ho fatto il 16 marzo ed è arrivato adesso quindi ci mette in genere un paio di settimane e invece quello di prima 22 febbraio e stiamo ancora aspettando ma per questo impiccio che c'è stato. Bene amiche e amici io vi auguro una buona serata o una buona mattina a seconda di quando lo vedrete vi raccomando di fare ciò che vi fa stare bene e un bacione alla prossima ciao amiche e amici